Nel video di oggi andremo a vedere velocemente ma in modo preciso come creare il nostro gesso liquido per creare i nostri stampi in gesso e lo verseremo in questa forma qui per ottenere questo tipo di stampo che utilizzeremo con la tecnica delle lastre per creare dei piatti. Esistono vari tipi di gesso che possiamo utilizzare per questo scopo. Oggi andremo ad utilizzare il gesso labbastrino e il gesso di questo produttore ha un rapporto acqua-gesso di 0,7 a 1, cioè per 0,7 litri di acqua un chilo di gesso. Avviciniamoci e vediamo come fare. Iniziamo pian piano a versare il gesso nell'acqua. Ricordiamoci sempre di versare appunto il gesso nell'acqua e non l'acqua nel gesso. Continuiamo un poco alla volta. Distribuiamo su tutta la superficie dell'acqua. Continuiamo. Vedrete che il gesso affonda nell'acqua pian piano. Ancora. Io ho precedentemente misurato il gesso, però possiamo anche andare con la regola della montagnetta, ovvero che a un certo punto ci accorgeremo che la nostra acqua contenente il gesso non vorrà più assorbire il gesso e si formerà una montagnetta a pelo d'acqua. Ancora non sta succedendo, quindi possiamo aggiungere ancora il nostro gesso. Lo sta assorbendo. Vedete già che non riesce a assorbirlo alla stessa velocità, ci sta mettendo un po' più di tempo. Allora con una bacchetta di legno possiamo scuotere un pochino, sbattere per vedere se riesce ad assorbirlo. Posso versarne ancora un poco. Ne verso un poco alla volta e mi fermo. Lo distribuisco sulla superficie dell'acqua. Aspetto un poco e vedo se riesce ad assorbirlo. Ok, versiamo giusto un altro poco, l'ultimo, e ci fermiamo. Facciamo assorbire questo qui, lo spostiamo sulla superficie dell'acqua e una volta che verrà assorbito tutto, lo mescoliamo. Possiamo mescolarlo sia a mano, sia con un mescolatore elettrico magari. Mescoliamo per bene in modo da non lasciare nessun grumo. Una volta che il gesso è miscelato, possiamo versarlo nel nostro recipiente di plastica, che ho precedentemente unto con della vasellina, in modo che il gesso si possa staccare dal contenitore facilmente una volta asciugato. Quindi mescolo per l'ultima volta e lo verso piano piano, in questo modo. Fino alla fine. Una volta che l'ho versato completamente, sbatto il contenitore sul tavolo in modo da togliere tutte le bolle d'aria. E quello che mi rimane adesso è aspettare che il gesso si solidifichi. Dopo circa una mezz'ora il nostro gesso si sarà asciugato e grazie alla vasellina che abbiamo messo nel contenitore si riuscirà a togliere molto facilmente. Vedete, basta allargare un po' il contenitore e la forma viene fuori. Per le prossime 2-3 ore sarà ancora morbido e potremmo anche modificarlo, rifinirlo, anche con una semplice lama. Avete visto com'è stato super semplice creare la nostra forma in gesso? Mi raccomando, ricordatevi di leggere sempre le proporzioni del produttore del gesso e di versare sempre il gesso nell'acqua e non viceversa. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video di quelli che pubblicherò su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Grazie a tutti.